Blizze e controlli a tappeto della Polizia Municipale nel cuore di Napoli nell'ultimo weekend di agosto. In Piazza Dante, gli uomini del Capitano Rodolfo Raiola, comandante dell'Unità Operativa della Municipalità Avvocata, hanno effettuato numerosi controlli a veicoli ciclomotori, con particolare riguardo ai tagliandi assicurativi e all'uso del casco. Il risultato è evidente già se si osserva la quantità di motocicli presenti sul camion. Dalle 9 a mezzogiorno, in 2-3 ore, abbiamo riempito questo camion, che è per mancanza di casco e mancanza di assicurazioni. Le operazioni continueranno adesso, ci spostiamo in un'altra piazza della zona, per dare quell'impatto di sicurezza anche alla popolazione che adesso sta tornando dalle brevi vacanze che hanno fatto.